Questa signora stava per gettarsi da un ponte, è stata avvisata la pattuglia della quale facevano parte l'assistente capo Roberto Panella, Simona Vagelli e l'assistente Giuseppe Bonghi che hanno portato in salvo questa signora. Quindi un gesto di grande professionalità che viene riconosciuto alla polizia stradale in questa giornata, una giornata importante e ricordiamo gli assistenti capo Roberto Panella, Simona Vagelli e l'assistente Giuseppe Bonghi sono stati premiati dal signor capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli e dall'ingegnere Alessandro Menegari, direttore del quarto tronco di Firenze. L'applauso e grazie! Grazie!